Cari amici, una parte della sinistra sembra ormai caduta nella foiba della stupidità più assoluta. Per il 25 aprile, questa è una notizia di oggi, è stato realizzato un manifesto fondo rosso, disegnato in nero una foiba, dentro il quale sono sprofondate una striscia verde che indica la Lega e una striscia gialla che sarebbe a indicare i 5 stelle. Poi c'è una scritta 25 aprile piazza delle cameglie, oggi come ieri Roma Est antifascista. Proseguendo, questo 25 aprile intendiamo ridare vita allo storico corteo antifascista Centocelle, un corteo che faccia risuonare nelle strade dei nostri quartieri, quello spirito di resistenza antifascista propria degli studenti e degli abitanti. Naturalmente questi ignoranti fingono nel non sapere che nelle foibe furono sprofondate e ammazzate persone che non centravano niente con la guerra civile che era in corso, fu anche un regolamento di conti personale e non solo militare e questo manifesto dunque è una vergogna che offende la coscienza dei parenti delle vittime degli infoibati e offende la coscienza di tutti gli italiani che abbiano un po' di sal in zucca.